Ciao a tutti amici di Vanilla. Chi dice che bellezza e intelligenza non possano coesistere? Esistono molti esempi di uomini e donne che, nel corso dei secoli, hanno confutato questo caparbio luogo comune. Tra queste persone anche Edi Lamar, stupenda diva del cinema, ma anche geniale inventrice di alcune tecnologie, oggi alla base della telefonia mobile e del wifi. Edi Lamar, nome d'arte di Hidwig Eva Maria Kisla, nacque a Vienna da una famiglia di origine ebraiche. Il padre Emil era un direttore di banca a Leopoli il 9 novembre del 1914, pochi mesi dopo la dichiarazione di guerra presentata dall'impero austro-ungarico alla Serbia e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Prima di parlare di Edi, delle sue straordinarie doti intellettuali e di attrice, vorrei chiedere agli spettatori non iscritti di cliccare sul tasto Iscriviti e aiutare il nostro progetto di divulgazione culturale. Grazie mille. L'educazione della giovane fu ferrea e basata sui valori dell'Ottocento, oramai annebbiati dal conflitto col quale si inaugurò il cosiddetto secolo breve. Questo rigore però dì dei suoi frutti. La ragazzina diventò uno dei migliori elementi della sua scuola e a soli dieci anni era in grado di parlare già perfettamente quattro lingue. Edi però era anche una ragazza di eccezionale bellezza e a dodici anni, presentatasi di nascosto a un concorso di bellezza, vinse la manifestazione. La giovane era bella e intelligente, due qualità travolgenti, due forze che avrebbero potuto scontrarsi, ma che lei riuscì a conciliare in maniera straordinaria. Si iscrisse alla facoltà di ingegneria, studiò pianoforte e continuò a prendere parte a concorsi di bellezza, finché un giorno non la notò l'attore Ernest Arndt, un artista molto famoso dei teatri vennesi del tempo. Questi con tutta probabilità se ne invaghì e la spinse a frequentare gli studi della casa di produzione Sascha Film, presso i quali aveva importanti conoscenze. L'esordio nel cinema per Edi giunse così nel 1930 con la pellicola Geldhauf der Strasse, Soldi in strada, di Georg Jacobi, una comparsa senza infamia e senza lode. Fu nel 1933 che la giovane raggiunse la popolarità con il ruolo da protagonista nel film Estasy, lungometraggio del regista praghese Gustav Macati, di genere drammatico a sfondo erotico, un fatto eccezionale per quei tempi. In Estasy, infatti, Edi Lamar fu protagonista di un nudo integrale, uno dei primissimi nel mondo del cinema. Questa parte scandalosa contribuì a farla conoscere immediatamente in tutta Europa e fino negli Stati Uniti. In quello stesso anno la donna conobbe un ricco industriale delle armi viennese con il quale si sposò in breve tempo. Il suo nome era Fritz Mandel, di 14 anni più anziano della giovane, detto il re delle munizioni, amico di Adolf Hitler ed Derman Goering. Mandel era un uomo potente e tenace, ma pure terribilmente possessivo e geloso, e dopo aver sposato la Lamar il 10 agosto del 1933, trascorrendo con lei una lunga luna di miele tra Venezia, Capri, Como e la Costa Azzurra, tentò di ritirare dal mercato tutte le copie di Estasy, ossessionato dal fatto che l'intero mondo potesse vedere il corpo di quella che adesso era diventata sua moglie. Citando le parole dell'uomo, il culo di una donna è per suo marito, non per gli spettatori. Tu sei carina, ma io devo tenere presente il punto di vista delle famiglie. Non mi piace quello che potrebbe pensare la gente di una ragazza che svolazza per lo schermo a culo nudo. Come riportò qualche anno dopo l'attrice nella sua autobiografia dal titolo Ecstasy and me, my life as a woman. L'intento risultò essere solo un'utopia e già nelle state del 1934 la donna riuscì a prendere parte alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, durante la quale fu presentato anche al pubblico italiano il piccante film. I tempi erano comunque tesi. I primi venti del nuovo conflitto mondiale espiravano in ogni parte d'Europa, con la popolazione di origine ebraica sempre più al centro dell'odio dei governi autoritari del continente. Compromesso ormai il matrimonio con Fritz Mandel, l'uomo lo fece definitivamente annullare per ragioni razziali nel 1938, fra il 1936 e il 1937 Dalamar tentò più volte di lasciare l'Austria, prossima a essere fagocitata dal terzo Reich con l'Anschluss e si trasferì prima in Svizzera a St. Moritz e poi a Londra. Proprio in Gran Bretagna arrivò la svolta alla sua carriera. La giovane instaurò un'amicizia col produttore tedesco Louis Mayer, cofondatore del colosso cinematografico Metro Goldwyn Mayer e nell'autunno del 1937 si imbarcò con tutto il suo staff sul transatlantico Normandy diretto negli Stati Uniti, sfuggendo alle persecuzioni razziali del vecchio continente e tuffandosi nel mondo patinato di Hollywood. In America cominciò a lavorare a molte pellicole. Vieni a vivere con me, con James Stewart. Questa donna è mia, con Spencer Tracy. E Schiava del male, con George Brent, ma fece storcere pure parecchi nasi come quando, su spinta della MGM, rifilò il gran rifiuto alla Warner Bros. che la voleva nel colossal Casablanca a fianco di Humphrey Bogart. La sfolgorante carriera cinematografica di Eddie Lamar procedette di pari passo alla sua movimentata vita sentimentale. Oltre al Mandel ebbe altri cinque mariti e innumerevoli amanti e al suo genio che non decise di placarsi. Nelle settimane di pausa tra un film e l'altro, la Lamar trascorreva le giornate a pensare e a mettere a punto innovative apparecchiature tecnologiche e nuovi congegni per rendere più facile la vita che sarebbe venuta dopo la guerra. Creò una pastiglia capace di rendere l'acqua frizzante, realizzò un supporto utile per migliorare la mobilità delle persone diversamente abili, investì sulle potenzialità di una località scarsamente abitata del Colorado e che in pochi conoscevano. Era Aspen, diventata dalla seconda metà del Novecento una delle stazioni sciistiche più famose del mondo. Un genio che guizzava da un campo all'altro e sempre con grandissimo successo e riscontro del pubblico, ora rappresentato dai critici del cinema, ora dalla società civile. Fu nel corso della Seconda Guerra Mondiale, però, che l'attrice, avvicinatasi alla causa degli alleati opposti alla Germania nazista, diede prova della sua straordinaria intelligenza. Eddie aveva ascoltato dei problemi che la marina americana aveva nei confronti della Chris Marine, la marina militare tedesca, abile a creare interferenze radio che mandavano in confusione i soldati a stelle strisce, e sviluppò insieme al compositore George Antil un sistema per la codifica delle informazioni via radio, con un marchigegno che riusciva a ricevere le informazioni in modo identico a come erano state trasmesse e in grado di modificare continuamente le frequenze, rendendole così impossibili da intercettare. Il brevetto, troppo avveniristico e sofisticato per quei tempi, fu però rifiutato con scherno dalla marina americana. Cosa ne poteva sapere d'altronde un'attrice di Hollywood tedesca, per di più ebrea, di tecnologia di guerra? Si trattò di un enorme abbaglio per il governo statunitense. Più avanti, infatti, il sistema proposto da Antil e Lamar diventò famoso come tecnica Frequency Hopping Spread Spectrum, il sistema a spettro prolungato che si rivelò la base per i successivi studi nel settore della tecnologia, che porteranno alla creazione del segnale a spettro espanso, tecnologia usata oggi nella telefonia mobile, nel Bluetooth, nel sistema GPS e nel Wi-Fi. Nella sua vita, Edi Lamar frantumò il pervicace stereotipo che vorrebbe la bellezza nemica dell'intelligenza, dando, forse a sua insaputa, un immenso contributo allo sviluppo della tecnologia del futuro. Ma di questo colpo di genio non trasse alcun beneficio, dato che il brevetto rimase comunque nelle mani del governo americano. Con il finire degli anni Cinquanta, la brillante attrice si allontanò pian piano dal grande schermo, scivolando in uno stato di degrado che si inasprì negli ultimi decenni del secolo. Abbandonò Hollywood per vivere distente a Manhattan, fu arrestata varie volte per furto fino a trasferirsi in una casa per anziani soli. Dimenticata dal mondo del cinema, la visionaria inventrice, capace di spianare la strada alle scoperte tecnologiche della fine del Novecento, trovò sparuti riconoscimenti soltanto nel campo della tecnologia, ricevendo la medaglia Kaplan, la più insignia medaglia austriaca per un inventore. Un'ultima gioia fu quella di vedere istituita la giornata dell'inventore, collocata in suo onore il 9 novembre di ogni anno, giorno della sua nascita. Eddie Lamar trascorresse gli ultimi anni di vita in povertà, morendo a 85 anni il 19 gennaio del 2000 nella sua casa di Castleberry, in Florida. Per il suo rivoluzionario brevetto, nel 2014, in occasione del centesimo anno della nascita, fu inserita nella National Inventors Hall of Fame. Grazie a tutti. Grazie a tutti.